Il rapporto tra Martin Scorsese e la religione è sempre stato fortissimo. L'educazione cattolica del regista di origini italiane ha infatti profondamente segnato la sua filmografia, e anche quando sono dei criminali senza possibilità di appello, i suoi protagonisti hanno comunque un rapporto molto personale con la fede. Di fede poi Scorsese ha parlato esplicitamente anche in pellicole come Silence, tratto dall'omonimo romanzo di Shusako Endo, in cui Andrew Garfield e Adam Driver interpretano due padri gesuiti portoghesi che vanno in Giappone, e ovviamente in L'ultima tentazione di Cristo, con Willem Dafoe nel ruolo di Gesù. A 36 anni di distanza dall'ultima tentazione di Cristo e Otto da Silence, il regista di New York torna quindi ad affrontare un testo di Endo e la figura di Gesù. Dopo Killers of the Flower Moon, Scorsese sta infatti lavorando all'adattamento del libro Vita di Gesù, pubblicato nel 1973. E grazie a un'intervista rilasciata al The Los Angeles Times, sappiamo qualcosa in più su questo nuovo progetto. Certo, la trama di Vita di Gesù può sembrare scontata, e invece il romanzo di Endo è piuttosto particolare. Dopo aver terminato la scrittura di Silence, pubblicato nel 1966, l'autore ha infatti deciso di raccontare la vita di Gesù attraverso gli occhi del popolo giapponese. Una riflessione questa sulla fede e sulla grazia. Scorsese ha deciso di ambientare quindi il film nel presente, ma allo stesso tempo vuole che sia una storia universale. La decisione poi di adattare questo romanzo è arrivata con un viaggio in Italia fatto a fine maggio 2023, subito dopo la presentazione di Killers of the Flower Moon a canna. Il regista e la moglie Ellen Morris hanno così partecipato alla conferenza Global Aesthetics of the Catholic Imagination a Roma presso la sede della civiltà cattolica, che organizza la manifestazione insieme alla Georgetown University di Washington. L'incontro poi ha riunito oltre 40 artisti provenienti da tutto il mondo, e c'è stato un incontro con Papa Francesco dopo il quale Scorsese ha deciso, parole sue, di rispondere all'appello del Santo Padre agli artisti nell'unico modo che conosce, ovvero facendo un film su Gesù. Dopo sette mesi Scorsese ha quindi già una sceneggiatura pronta, e scritta insieme a Kent Jones, con cui ha lavorato a diversi documentari come ad esempio A Letter to Elijah nel 2010, e dovrebbe concentrarsi sugli insegnamenti di Gesù, senza però fare proselitismo. Il regista infatti descrive così il suo approccio. Sto cercando di trovare un nuovo modo per rendere accessibili gli insegnamenti di Gesù, cercando però di eliminare tutta l'aurea negativa causata dalla religione istituzionale. Le riprese di vita di Gesù dovrebbero cominciare quest'anno, e la notizia è che Scorsese pensa una durata di 80 minuti per il film. Ed è sorprendente, dopo i 206 minuti di durata di Killers of the Flower Moon. Dopo Killers of the Flower Moon, Apple TV Plus ha annunciato nel 2022 un nuovo progetto in collaborazione con Martin Scorsese. E si tratta dell'adattamento del libro di David Grand, Wager, a Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder, che racconta una storia realmente accaduta, ovvero quella dell'ammutinamento della nave Wager avvenuto nel 1741. E qui il protagonista è Leonardo DiCaprio. Questo film è stato però momentaneamente messo in pausa, come lo stesso Scorsese ha comunicato ad ottobre in un'intervista rilasciata a IndieWire, perché a causa dello sciopero degli sceneggiatori cominciato a maggio 2023, la stesura della sceneggiatura ha subito dei ritardi. E voi cosa ne pensate? Vi incuriosisce il nuovo film di Scorsese sulla vita di Gesù? Fatecelo sapere nei commenti! Grazie! 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 Grazie!